Far incontrare le esigenze di personale delle imprese delle province di Chieti e Pescara con le professionalità offerte dai militari in congedo senza demerito è il principale obiettivo dell'accordo firmato oggi a Pescara nell'ambito del progetto sbocchi occupazionali dal colonnello Marco Iovinelli, comandante del comando militare esercito per l'Abruzzo e il Molise e dal presidente di Confindustria Chieti-Pescara Silvano Pagliuca alla presenza del capo sezione per il sostegno alla ricollocazione professionale il tenente colonnello Giovanni Di Baggio e del direttore generale di Confindustria Chieti-Pescara Luigi Di Giosaffatte il comandante Iovinelli ha ricordato che dall'inizio del 2013 ci sono 198 i volontari 47 dei quali donne iscritte al progetto nel 2020 56 hanno trovato un impiego 7 dei quali in aziende del settore privato nel 2021 altri 39 iscritti hanno trovato l'impiego e 5 dei quali nel settore privato uno dei compiti principali del comando militare esercito Abruzzo Molise è quella della ricollocazione professionale del personale che fuoriesce dal Ministero della Difesa noi abbiamo un database circa 200 ragazzi per quanto riguarda perché noi facciamo riferimento soprattutto al nono reggimento alpini c'è un database dove ci sono tutti i profili dei ragazzi questi sono tutti ragazzi ex militari che sono abituati a lavorare in team hanno determinato caratteristiche morali sanitarie e quindi possono essere appetibili alle varie aziende abruzzesi il presidente Pagliuca ha detto da oggi le nostre imprese potranno avere accesso alla piattaforma già operativa e costantemente aggiornata del SIL Difesa ed effettuare sia in autonomia che assistite da Confindustria le proprie ricerche di figure professionali qualificate ovviamente come giustamente è facile immaginare perché quando parliamo di Ministero della Difesa parliamo in effetti tantissime attività che concorrono ai vari corpi e quindi competenze diverse, competenze che molto spesso possono risultare utili alle aziende ed è il motivo per cui riteniamo che è un ulteriore valido aiuto non è l'unico aiuto che possiamo dare affinché questi incontri tra domande e offerte quindi tra professionalità disponibili sul mercato e esigenze del mondo dell'impresa però sicuramente diventa un elemento, come dire, un ulteriore elemento di valutazione e di supporto per le aziende grazie a tutti